L'ingresso in campo di Laribi e Moncini aveva dato una scossa al Cesena nel secondo tempo della partita col Carpi, ma questo non è bastato ai bianconeri per aggiudicarsi l'intera posta in palio. Un punto comunque di sostanza per i ragazzi di Castori. Uno prima della partita magari si aspettava i tre punti, però poi vedendo come è andata la partita possiamo dire che ci sta il pareggio. Ovviamente erano punti che noi volevamo, però adesso a posteriori ti dico va bene il pareggio e guardiamo affoggio. Cinque punti in sette giorni, un bottino che soddisfa anche il funambolico esterno Cosimo Chiricò. Sì, assolutamente sì, anche perché dopo la grande vittoria che abbiamo fatto a Spezia, che magari lì era un campo molto difficile, ci siamo riusciti alla grande a prendere i tre punti e poi purtroppo quella partita contro la Provercelli dove magari meritavamo un po' di più abbiamo raccolto solo un punto. E contro il Foggia starà a derby del cuore per l'ex Rossonero. In uno stadio, lo Zaccheria, che trasmette sempre grandi emozioni. Sicuramente lì è sempre un ambiente caldo, un ambiente molto bello e importante. Spero che faremo del nostro meglio e scendere in campo con serenità e mentalità giusto. Grazie a tutti.